Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Immediatamente è partita la raccolta firme online. Domenica scorsa è stato organizzato anche un flash mob di proteste in piazza del comune con una quarantina di partecipanti pronti a sfidare la fitta pioggia caduta quel giorno. La mostra affisce giunta dalla sua non edizione ha suscitato in pochi giorni a Cremona una valanga di critiche che tuttavia a nulla sono osservite. La giunta comunale è andata avanti per la propria strada senza dar retta a nessuno. Sino ad evento concluso, ovvero sino lo scorso 11 ottobre per le strade, benché l'iniziativa si è destinata in realtà a proseguire sino al prossimo 22 novembre anche se solo presso la sede dell'associazione Tapirulan, promotrice dell'evento, in collaborazione col comune. Non a costo zero, questo progetto è stato finanziato nel fileone Cremona dei Giovani di cultura partecipata con un contributo di 1000 euro. Di cosa si è trattato dunque? La fase pubblica, quella appena conclusasi, è consistita in un format culturale espositivo a cielo aperto con la fissione di 40 gigantografie, dimensioni fino a 6 metri per 3, in altrettanti spazi pubblicitari lungo 20 chilometri cittadini in prossimità di via di intensa percorrenza, parchi e scuole, asili compresi. La scelta dell'artista quest'anno è caduta su Nicoletta Ceccoli, illustratrice di fama internazionale e qui sono cominciati i problemi, poiché ha presentato per l'occasione opere, a detta degli stessi organizzatori, raffiguranti mondi immaginari non proprio rassicuranti, non solo perché macabre o allusive di innocenze perdute, bensì anche per gli evidenti richiami di una sfera sessuale che appare peraltro alquanto disturbata. Si va dalla bimba sadica che sgozza un coniglio, al girotondo di piccole streghe danzanti attorno a un giocattolo dalle semblianze demoniache, dalla ragazzina munita di frusta impegnata in giochi sadomasochistici con un pinocchio domato, alle morbose curiosità del burattino, sino alla bambina che tiene tra le mani, come fossero palloncini, le cinque teste decapitate di altrettanti clown con i corpi mozzati ancora ai suoi piedi. Quest'ultima immagine sciaguratamente affissa di fronte a una scuola media, la Anna Frank di Cremona. Insomma, nulla di educativo, propositivo, né tanto meno didattico da mostrare a chiunque sulla pubblica via. Immediata la reazione dell'opposizione, Fratelli d'Italia e Lega, che in ascoltate hanno chiesto la rimozione immediata di queste illustrazioni, non essendo oltretutto passata la proposta di questa mostra, né dalla Commissione Cultura, né tanto meno dal Consiglio Comunale. Più elaborata la proposta portata invece in Consiglio lunedì scorso, Maria Vittoria Ceraso di Viva Cremona, Saverio Simi, Carlo Malvezzi e Federico Fasani di Forza Italia hanno presentato un ordine del giorno per chiedere l'istituzione di un garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Cremona, seguendo l'esempio di quanto già realizzato anche in altre città come a Milano, a Pavia e a Palermo, in vista la prossima giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, calendarizzata per il prossimo 20 novembre. Non è questo il primo scivolone collezionato comunque ad anno dell'infanzia dalla giunta municipale di Cremona. Vanno ricordati in passato la diffusione dell'opuscolo Fai una spesa responsabile per la salute tua e quella dell'ambiente, in cui si proponeva il far meno figli tra le migliori azioni per migliorare i cambiamenti climatici. Nonché l'evento per bambini promosso nell'ambito della festa Arci, racconti senza barriere, con le drag queen Priscilla e la notte brilla, teatrino che non necessita di ulteriori commenti. Tanto da indurre l'associazione Stoccafisso Cremona a considerare amaramenti in un proprio comunicato, la giunta Galimberti deve avere qualche problema coi bambini. Il clima impregnato di ideologie, più comunque il comune ha maturato l'idea di sostenere dalle mostra, lo ha rivelato, fugando così qualsiasi dubbio in merito, il goffo tentativo di risposta alle critiche raffazzonato dal presidente del consiglio municipale, Paolo Carletti, svestendosi totalmente dal ruolo istituzionale, quindi almeno sulla carta super partes che viceversa dovrebbe tenere. Carletti ha emerso un comunicato polemico in cui ha paragonato le citate opere di Nicoletta Ceccoli all'imponente Il Giudizio di Salomone, che domina in sala della consulta di Palazzo Comunale. Raffigurante, scrive, un neonato tenuto per i piedi, nudo a testa in giù, da chi brandisce una spada pronto ad essere tagliato a metà. Già è a dir pochi riverente l'accostamento tra le illustrazioni macabre o sadomaso contemporanee e una tela del 1671 originariamente realizzata per la chiesa di San Domenico, ma a maggior ragione fuori luogo appare l'intervento a gamba tesa del presidente del consiglio comunale di Cremona che ha dimostrato di ignorare totalmente l'episodio biblico cui la scena si riferisce, scena a lieto fine, per così dire, perché proprio grazie alla saggezza di Re Salomone nessuna violenza fu compiuta sull'infante. Ma probabilmente questo nessuno lo ha mai raccontato a Carletti, peccato gli avrebbe risparmiato una figuraccia. Insomma, un pessimo risultato, l'ennesimo specie per una giunta guidata da un sindaco, Gianluca Galimberti, che a suo tempo fu presidente diocesano di Azione Cattolica. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.